Presidente, intanto grazie per ospitare questa presentazione del Diario Scolastico 2023-2024 della Voce di Rovigo. Che cosa ne pensa, se ha avuto modo di sfogliarlo? Per voi cosa significa ospitare questo evento? Intanto per noi è un enorme piacere esserci, anzi esserci di nuovo, perché vuol dire continuare a credere in questa iniziativa che ha sicuramente un valore in sé perché è uno strumento che per i ragazzi sarà senz'altro utile. Però è chiaro che ci fa piacere in particolar modo perché parla di noi, parla del nostro territorio e mette nelle condizioni i ragazzi di conoscerlo un po' di più. Credo che da questo punto di vista sia un'iniziativa che va particolare supportata proprio per il valore che può dare non solo per l'utilità che ne verrà ai ragazzi ma proprio per far conoscere le nostre bellezze, le nostre ricchezze e le nostre peculiarità. Onorevole Cortellazzo, lei qui presenta con noi alla presentazione del diario 2023-2024 uno sforzo collettivo di tutto il territorio, degli enti del territorio. Perché è apprezzabile secondo lei? Perché ormai è un prodotto molto ben fatto, che è apprezzato non solo dai ragazzi, dai bimbi, dagli studenti ma anche dalle stesse famiglie che hanno curiosità di sfogliarlo. È la quinta edizione per cui oramai si va verso una strada di consolidamento del prodotto, dico io. Ogni anno c'è sempre più mi pare estensione del perimetro di diffusione del diario perché non ha solamente i confini di provincia di Rovigo e Bassa Padovana e questo è solamente un aspetto positivo. Io spero che ormai sia una produzione del diario molto attesa dalle famiglie, dai ragazzini, dagli studenti ma che vada nella direzione ormai che è spianata e che per qualche motivo strano, non tanto della politica ma delle sciocchezze di tutti noi quotidianamente che non ci sia qualcuno che negli anni pensa di fare qualcosa di diverso perché ormai questo è un prodotto eccezionale, molto ben fatto, ripeto, e anche molto atteso dalle famiglie e dai ragazzini. Che funziona? Sicuramente e poi anche un piccolo aspetto che non è un piccolo aspetto, c'è anche un sollievo dal punto di vista economico perché chi ha più ragazzini che si affacciano alla scuola elementare, primaria, secondaria come la chiamiamo è anche una minor spesa perché sappiamo che ormai i diari sono molto stilizzati, molto fatti bene e costano questo è un diario che, ripeto, bellissimo e che anche acquistato in cartolliberia costerebbe anche qualche, sicuramente qualche quindicina di euro. C'è anche Banca Adria con le Oganei nel impegno per il diario scolastico 2023-2024 che è un impegno collettivo di tutto un territorio. Presidente Giuriolo, come mai avete puntato su questo prodotto, questo strumento per le scuole, per le famiglie? Perché vogliamo essere vicini alla famiglia, vicini ai ragazzi, agli studenti e soprattutto farlo in maniera sinergica. Vogliamo portare in maniera importante dei segnali sulla sostenibilità, sul territorio e noi siamo una banca del territorio e chiaramente vogliamo interloquire, vogliamo ribadire che siamo diversi rispetto agli altri e che vogliamo essere vicini alla gente e con la gente. Grazie.